Eccoci e bentornati sul mio canale riprendiamo con Call of Duty World at War Siamo al castello di Okinawa dobbiamo andare a recuperare munizioni nelle casse che ci hanno appena lanciato Così ci buttiamo nella mischia nella prossima missione che forse ci darà finalmente la libertà Oh cacchio aspetta prendo il Thompson aspetta aspettatemi non mi venite ad attaccare Oh dove vai? Dove va quello? No 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 porco cane pericolo subito così appena inizia il video Col Thompson che non mi ha killato quello forza 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 bene quello la sopra è morto? No quel cacchio ammazza già iniziamo con le munizioni esaurite Prendi le munizioni per il Thompson va ok andiamo va Dai oh guarda che questo lo cacchio sta che camperacci Stice che oh ancora un altro ce ne sta Mi sento Aia Mamma mamma Ragazzi Ragazzi il delirio il delirio namo 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 ci stanno i mortali Ok Ok Da solo vado Belli 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 Oh cacchio Oh oh Cacchio voleva fare quello A posto Mamma mia Vedendo cacchio stavano Prendiamo il tipo 100 Il type 100 Che è molto meglio del Thompson Per quanto riguarda precisione Ok abbiamo preso pure un po' di munizioni Ok Posto Obiettivo completato Fai esplodire tutto va Oh cacchio Mamma mia sti cacchio di posti che si aprono Sti bunker infami Ok raga Non fate Non fate Ok Bene Dovremmo cercare Di entrare Se sei d'accordo Oh oh Porco cane Penattimo Penattimo Qua ti attaccano con attimo Qua ti attaccano con un attimo ragazzi Prendiamo la baionetta Prendiamo la baionetta va Boom Aspetta Peso Porco cane Questa mica ci riesco Mettiamo il Garand Forza Bene Aspetta Forza Forza rega Oh Guardali come camperano E poi te vengono sotto e te sparano Sti infami maledetti Ok Dai 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 E basta Oh 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 raga Porco cane Che cacchio di strizza Che mi sta a rischiare Sto a rischiare ogni 2x3 la morte ogni 2x3 la morte Su Oh cacchio Via No Dai raga L'ho rilanci... Eeeh Sti granate Sti granate L'avevo rilanciate L'avevo rilanciate Oh Che scandalo Forza Oh oh E basta E basta Che appena cortellata Neowool Mi hai rotto l'anima Ancora? Ok grande Procediamo Andiamo Andiamo Cacchio Si è aperto pure qua Si è aperto pure qua E' tutto un bunker qua raga Su 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 Oh E basta Eh Oh mi hai rotto eh Oh mi hai rotto Forza Oh Che cacchio eh Oh Oh vieni qua Mamma mia Stanno De cortellaccio Porco cane Attento al ponte Su 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 Bene Bene Liberiamo Che cacchio eh Che cacchio La granata Vai 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 Saliamo va Andiamo Andiamo Dov'anno tutti Forza Oh di cacchio Che mi rompe l'anima Ma questo qua Ma lo vogliamo ammazzare raga No non lo so Che intenzioni ci avete Su Su Guarda quanti Guarda quanti Forza E vengono pure a fare i kamikaze Possino caricabbe Su 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 Sì sì cercano pure di scappare Oh cacchio Oh cacchio Voglio rimorire come prima Oh Che volo quello Sì è proprio la missione che dico io Quella del castello Mi pare si chiama proprio castle la mappa multiplayer Bellissima Bellissima Forza Bene Namo Namo Come on guys Forza Ma chi è che mi rompe l'anima Aspetta Forza Oh Dai Mannaggia Perché non ho recuperato le energie pure io Brutto tonto Brutto tonto Che c'ho sto vizio Danna all'assalto C'ho sto viziaccio del cacchio Danna All'attacco E ancora non capisco che Non lo devo fare Però non lo sta Oh Che mi ha ammazzato Ma Mi devo levar vizio Danna all'assalto Rega Io perché purtroppo Tanto so Me viene fatto dal multiplayer Io perché Sego il discorso E quello che faccio al multiplayer Solo che Al multiplayer ci riesco Perché Vanno essere 1 2 Massimo 3 Qua so cominciano a essere 10 15 Soldati Quindi mi conviene Giocare attento Giochiamo un po' Camperato Va Tanto è l'unico modo Che vince le missioni Nel Nel single player Che sa fa quello Quello dove va Quello dove va Che ancora campa Dai Posto Vieni qua Oh Mori Ma vuoi morire Tu devi morire a papà Eh A posto Andiamo Bene Allora Passiamo Questa miglior vita Via Via Aspetta Aspetta Andiamo 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 rega Andiamo Oh Ma me fai entrare Non c'è nessuno Sta Sti infame qua E uno sul tetto Mi ricordo Andiamo Non c'è arrivata Possibile Ok Possiamo andare adesso Vai 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 Come munizioni In esaurimento Oh Guarda con che arma Siamo rimasti Boom Cacchè con quell'arma Mica ci riesca a giocare Mica Ci riesca a giocare Con la baionetta Andiamo Boom Aspetta Vai Aspetta Aspetta che ricarico A posto Qua è finiti Andiamo Boom Boom Oh Ancora vivi Oh Cattiva la baionetta Bene Procediamo Procediamo Su Su Obiettivi aggiornati Elimina gli operatori dei mortali Oh Cacchio Eh Sembra facile Aspetta R1 per sparare con il mortaio Boom Oh cacchio Via Aia Forza Prendemolo Ricarichiamo Ok Vai Bam Che figata Forza Boom Mi piace Mi piace Mi piace Non so a voi Ma a me piacciono tanto Ah questo ancora sta qua A posto Porco Inoltre ci lascio Le penne Proiettili di mortaio Andiamo 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 Vai A posto Uno distrutto Una ma rompe l'altro adesso Che Ancora non riesco A farcelo entrare bene A posto Due Vai Boom Porco cane Che spettacolo A posto Andiamo Andiamo regà Avanziamo 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 Non sta Oh eccolo Aspetta che Vai Tre Aspetta che vado a prendere l'ultimo Aspetta che vado a prendere Sì Tranquillo Tranquillo Aspetta che mi faccio l'ultimo Bravo Da assalto puro Da assalto puro Tipo Alla grande maratoneta Alla 200 all'ora Oh cacchio Dove sta Eccolo Vai A posto Fini Oh Porco cane No Dai Non ci sono riuscita a dare la quartellata Avevo distrutto pure il quarto Avevo distrutto pure il quarto Regà Dai Andiamo a dire che mi distruggessi due Vai Oh Sì Troppo vicino Troppo vicino Sono saltato in aria pure io Stia missione è troppo figa Stiamo morì 28 miliardi di volte Vai A posto Andiamoci a prendere l'ultimo Dai 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 Lo faccio Non ti preoccupa Non ti preoccupa Non ti preoccupa Lo facciamo l'ultimo Lo facciamo Bene Andiamo Andiamo nei colpi di mortaio Colpi di mortaio Corri 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 Oh cacchio Bello che Non ce posso Oh no Vedi perché Stanno qua i colpi di mortaio Pure io che torno indietro Devo prima ammazzarli quelli che Allora Levamoci questi due regà Che mi hanno rotto E poi andiamo avanti Ok Aspetta Bene Aspetta 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 Oh A posto Aspetta i tu ricarica Qualche Tozza Ok Vediamo se Ancora campano Oh 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 Mamma mia Pericolo Pericolo per l'amante nazionale A posto A posto Dai manca l'ultimo Vai Ci arrivo Possibile Vai Ok A posto Ragazzi Spero che il video Stasso di vostro gradimento Se vi è piaciuto Iscrivetevi sul mio canale E condividete il mio video E ci vediamo con tanti nuovi video Sempre qui Sempre sul mio canale E ci vediamo con tanti nuovi video